Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, siete sul canale 17 del Digitale Terrestre. Questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa o meglio il commento, la stampa del giorno che abbiamo già preparato per voi per questi prossimi 15 minuti. Prima però andiamo a vedere il santo di oggi e poi il tempo di questi giorni. Oggi la Chiesa festeggia, celebra anzi la Beata Vergine Maria Madre della Chiesa che tra l'altro è una celebrazione nuova se vogliamo perché è dal 2018 per volontà di Papa Francesco. Quindi è una celebrazione di Maria Madre della Chiesa con il grado proprio di memoria. Il sole è sorto alle 5.34, il tramonterà alle 20.40. Questo maggio ce lo ricorderemo come un maggio abbastanza capriccioso perché comunque ci ha regalato giornate fredde e quasi autunnali a volte con anche pioggia. Intanto trebimeteo.com ma al tempo al nord e su parte del centro, apice del caldo al sud, guardate l'Italia così come sarà intorno alle 6 di questa mattina, così a mezzogiorno. Ecco insomma divisa in due con il centro Italia occupato dalle velature estese, nord con piogge temporali, al sud un po' più sereno. Ma andiamo a vedere velocemente, abbiamo giusto il tempo per vedere le previsioni per oggi sulle marche. Allora, questo è nello specifico la regione questa mattina, eccola qua, ancora qualche residuo proprio vasco, ma insomma credo che perlomeno sulla provincia di Piesolo le cose siano già, queste perturbazioni siano già passate. Il pomeriggio è la sera che torna con la pioggia soprattutto al nord della nostra regione e poi domani invece c'è il bel tempo. I giornali, allora, Corriere Adriatico, un AstraZeneca Day per i giovani, questa è la trovata, la proposta che prende l'esempio da Falconara dove l'iniziativa ha fatto registrare il tutto esaurito. L'obiettivo del distretto è quello di poter razionalizzare al massimo le dosi che sono a disposizione, mentre a centropagina la fotonotizia dei Maneskin dopo la vittoria all'Eurovision. Adesso l'Eurovision si candida con la città di Pesaro e con il palazzetto, insomma il Palace Vitrifrigo ad ospitarlo il prossimo anno quando sarà l'Italia appunto con questa manifestazione canora insomma che potrebbe toccare anche la città di Pesaro. Si candida insieme a Bologna, Milano e altre località. Poi la vincita, sapete le Marche hanno registrato una vincita record spaventosa, 156 milioni di euro che sono andati a finire in un paese che si chiama Montappone dove sabato sera è stato registrato il 6 al supernalotto, 156 milioni di euro. Voce camuffate, il neopaperone, titolo ha chiamato in tabaccheria, una chiamata alle 7.30, lo vedremo tra poco comunque nelle pagine interne. Poi sempre dalla prima del Corriere, i disobbedienti al parco, raduno modello famiglia. A Pesaro al Miralfiore sono radunati quelli che ancora sono convinti che il Covid non esista e che le mascherine siano soltanto un'imposizione e non servono a nulla. Poi sempre da Pesaro, botte, angherie, denuncia il marito e lo fa arrestare, mentre a Fano Rocca, parliamo della Rocca Malatestiana, altre notti di vandalismo, altre notte di vandalismi, residenti esasperati. Poi Fano, e parliamo di sport, calcio, obbligato a vincere dopo lo 0-0 e i rimpianti. Tacchinardi ritroverà Carnielutti e Brero per il ritorno dei play-out di sabato a Imola. Mentre la VL cerca un nuovo coach, un nuovo allenatore, oltre a Sacchetti, un'idea è quella di Petrovic. Andiamo sul Carlino adesso. Il Carlino, eccoli qua, i Novax, i NoMask, chiamateli come volete. Sono quelli che comunque vivono in un altro pianeta, secondo me, perché poi alla fine un conto è essere contrario alle mascherine, un conto è, non so, sostenere che magari qualcuno non ce l'ha raccontata giusta, ma dire che proprio non esiste è un'altra cosa. Oltre 200 arradunano Masch, Novax, Almiralfiore e ancora non ci credono. Questo è il titolo che dà oggi il Carlino, appunto, di Pesaro. Poi alle ore 23, ore 23 coprifuoco, fuga dai locali e traffico in tilt, primo fine settimana con il nuovo coprifuoco, i ristoranti fanno il pieno fino all'ultimo, poi scatta la corsa a casa. Case di riposo e RSA, oggi prime riaperture, tra mille regole ma anche divieti, violenze e stupri sulla moglie, finisce in manette dopo 20 anni, un fatto venuto a Tavuglia, e sempre a Tavuglia, orticello di marijuana in carcere, il coltivatore. L'Eurovision alla vitri frigo, Ricci sfida Roma, Bologna e Milano, mentre si parla anche di economia, Guzzi e Carfagna, larga intese per lo sviluppo delle marche. Poi la VL che stringe per il coach Petrovic sale, possibile in settimana la fumata bianca, Cain potrebbe seguire Repesia alla Fortitudo, mentre volley femminile, attenzione super megabox, Ora è finale per la Serie A1, le ragazze di Vallefoglia battono Sassuolo, sfideranno Pinerolo per coronare dunque il sogno. Andiamo però a vedere anche il Carlino di Ancona. La prima pagina, strage di Corinaldo, atto secondo, udienza preliminare sulle autorizzazioni rilasciate alla Lanterna Azzurra e sulla sicurezza del locale. Centro pagina invece l'Anconitana si rialza, dopo le contestazioni vince Senigallia e resta in corsa. Poi anche qua vince 156 milioni, chiama il tabaccaio, mi ricorderò di te. Il fortunato si è fatto vivo per ringraziare il titolare, titolare che dice non ho riconosciuto la voce perché evidentemente insomma avrà parlato un po' così, insomma pronto mi ricorderò di te. Botte tra ragazzini invece, follia in piazza, Ennesi, Marissa, Porto Recanati, due giovani si affrontano dopo il coprifuoco, volano sedi e tavoli, ma la fotonotizia è per la cronaca. Un incidente a San Claudio, guardia giurata che libera un passeggero rimasto incastrato praticamente nell'auto che è finita in questo canale. Due ragazzi rischiano di annegare, era sotto shock e con un braccio ferito. Non sono un eroe, ho fatto soltanto il mio lavoro. Allora, iniziamo la settimana con la pagina del Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico questa mattina dedica due pagine a questa incredibile vincita di 156 milioni di euro, una cifra da capogiro. E come si fa in questi casi? Si va nella tabaccheria che ha sfornato questo biglietto vincente, si cercano un po' di raccogliere delle testimonianze, di individuare il vincitore. Caccia, di solito si usa questo termine, caccia al vincitore e già questo dovrebbe far capire che insomma quando si vincono cifre di questo genere in realtà più che una festa adesso, ma ripeto, è una... Noi parleremo dopo, adesso guardiamo un attimo, guardiamo il titolo, poi facciamo il commento. Allora, caccia al vincitore, vedete, caccia al vincitore, mistero a Montappone dopo i 6 da 156 milioni di euro al supernarrotto. Ieri mattina il tabaccaio ha ricevuto una telefonata flash dal nuovo paperone, il sindaco dice sarebbe bello ci donasse una casa di riposo e vedete, già c'è il primo in coda, che è il primo cittadino, non a caso si mette in coda, il primo della fila. Ore 7.30, la chiamata con una voce camuffata, mi ricorderò di te. E queste sono le fotografie, insomma, le solite cose che si scrivono, che si dicono quando si vincono queste cifre incredibili. Poi ovviamente uno può sbizzarrirsi e fare una lista, qui il Corriere ne fa una di otto punti, con che cosa ci si può fare con 156 milioni di euro? Ognuno chiaramente ha la sua lista, per esempio ci si può comprare un quadro di Picasso che vale 103 milioni, oppure una squadra di calcio di Serie A come la Fiorentina, 160 milioni, la Bugatti, 11 milioni di euro, quindi una macchina, oppure una isola alle Maldive che costa sui 5 milioni di euro, oppure fare una crociera per il giro del mondo, 124 giorni che costerebbe insomma un milione di euro, oppure un tour nello spazio che costa 150 mila sterline, una villa per esempio, una maxitenuta da oligarca russo, oppure da magnata indiano, una super villa che costerebbe 100 milioni di euro, oppure uno yacht, uno super yacht, anzi oltre 70 metri che può costare 80 milioni di euro. Ora, insomma, questa è un po', io non so cosa ne pensiate voi, io immagino che tutti voi vorreste essere al posto di questo fortunato vincitore di Montappone. Io personalmente, ma non è per invidia, a mio giudizio, no, restiamo sul titolo, ecco, bravo, così, grazie. Io personalmente no, sono dell'idea che una cifra del genere non ti rende felice, ma ti complica parecchio la vita. E non lo dico io per invidia, ma lo dice la storia, lo dicono i fatti, moltissimi di coloro che hanno vinto cifre così importanti, non solo si sono trovati poi in grosse difficoltà nella vita, perché hanno dovuto cambiare casa, hanno dovuto cambiare città, hanno dovuto cambiare nazione, hanno dovuto cambiare vita e non sempre si è preparati, perché non è che dice uno vince 150 milioni di euro, poi continua a fare la vita di sempre. Non è così, è una più illusione di poterla continuare così. Vedete, già scherzando ho detto, c'è già il primo cittadino che si è messo in fila. Quanto ci vorrà in una città, in un paese come Montapone, a sapere chi ha vinto, per quanto uno possa sforzarsi a camuffare, a non solo la voce, ma anche lo stile di vita, cercando di rimanere tale quale a prima? Non sarà così, perché altrimenti non servirebbero i 150 milioni di euro. Quindi, detto questo, io credo che questo gioco sia un gioco satanico, un gioco che non va bene, così come è stato concepito. Se uno vuol far contento una persona, basterebbe regalargli, far vincere qualche centinaia di migliaia di euro, si sistema, continua la sua vita e va avanti regolarmente. Tutti questi soldi. C'è una storiella per chiudere, che vi voglio raccontare, a proposito di queste vincite. Se noi domani mattina prendessimo tutti i soldi che ci sono sulla Terra e li distribuissimo ad ognuno degli abitanti del pianeta, quindi ognuno riceveremmo la stessa identica cifra, nel giro di pochi anni questi soldi tornerebbero agli stessi ricchi, ai soliti ricchi. Perché? Questo cosa vuol dire? Che non tutti sono preparati e pronti a gestire soldi. Chiusa questa parete, è un modo per commentare questa notizia, è un modo per darvi spunto, per riflettere. Certamente qualcuno sarà d'accordo con quello che ho detto, altri sicuramente no, però è un modo per così, un punto di vista diverso. E adesso invece andiamo avanti con la rassegna, con i giornali. Torniamo con i piedi per terra. Vedete, commercianti, commercio, ristoranti e turismo, non basta più una boccata d'aria. Marcolini della Confcommercio dice il coprifuoco, assolutamente, via tutto, mentre Ciuccoli dice della Confesercenti, gli ospiti sono solo italiani. Alfano Center, negozi riaperti nel fine settimana, due però hanno chiuso praticamente del tutto, perché sono in crisi. La terra di nessuno invece, siamo sempre a Fano, ma questa volta alla Rocca Malatestiana, la terra di nessuno è giardinetti, lunga notte tra bivacchi e vandali, eccessi dopo il coprifuoco, finestrini infranti, bottiglie e rifiuti, cresce il disagio tra i residenti. Ora, ieri non eravamo in onda, ma chi segue il nostro sito internet, occhiolanotizia.it, o comunque ha letto il giornale, ieri mattina il Corriere Adriatico, il Corriere ieri ha anticipato la notizia della individuazione, della banda che ha aggredito i due giovani pesaresi, il 17enne e il 18enne, qualche giorno fa, qualche settimana fa, appunto qui alla Rocca. Tutta la banda è stata identificata, la polizia, il commissariato di Fano ha fatto un lavoro davvero importante, certosino, quindi la banda ha un nome e un cognome. Adesso si attende, insomma, di capire che cosa succederà e che cosa deciderà appunto il giudice, per vedere un attimo quali sono, anche perché ci sono reati pesanti, come rapina, la rapina che, insomma, non è una cosa da poco, e lesioni. Mentre sulla pagina 7 del resto del Calino, disse di Ancona, si parla della strage di Corinaldo. Oggi in tribunale c'è l'udienza preliminare sui permessi per la lanterna azzurra. Anche il sindaco rischia il processo. E' fissata, infatti, per questa mattina l'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Ancona, Francesca De Palma, per l'inchiesta bis sulla strage della discoteca di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono schiacciati 5 adolescenti e una madre di 39 anni. Il procedimento tira in ballo la commissione, la commissione che rilasciò i permessi al locale lanterna azzurra presieduta dal sindaco di Corinaldo, Matteo Principi. Gli indagati che rischiano di finire a processo sono 18, compreso il sindaco, più la società Magic SRL. Mentre 5 ragazzi, mentre già condannati, 6 componenti della banda dello spray che scatenarono il fuggi-fuggi, costato la vita appunto a 6 persone. Andiamo sul prato del parco Miralfiore di Pesaro, dove si sono dati appuntamento i cosiddetti disobbedienti. I disobbedienti al parco, un raduno scampagnato. Il pratone del Miralfiore ha accolto i partecipanti del No Paura Day. Un raduno che, come vedete, ieri pomeriggio si è svolto al parco e, insomma, più che un Raduno Day, più che un No Paura Day, è sembrato, scrive il giornale, essere immersi in una tranquillizzante scampagnata a formato famiglia, modello Pasquetto primo di maggio, tutti insieme nel pratone ospitale del Miralfiore. Il parco, ieri pomeriggio, ha accolto i partecipanti alla manifestazione, manifestazione che ha visto confluire i disobbedienti, definizione ampia, che comprende i No Vax, i No Mask, i No Orario e, in generale, tutti coloro che da 15 mesi a questa parte contestano le disposizioni sulla pandemia e la sua gestione, dubitando su causa ed effetti. E poi c'è quest'altra idea, quella dell'Astra Day. L'Astra Day, l'Astra ovviamente è l'AstraZeneca, il vaccino, vaccino tanto discusso, e l'AstraZeneca per i più giovani, ma in un solo hub. Il riferimento è a Falconar, dove l'iniziativa ha fatto registrare il tutto esaurito. L'obiettivo è quello di razionalizzare al massimo le dosi che sono a disposizione. Sapete che c'è molta gente che non lo vuole fare e quindi queste dosi di vaccino sono lì in magazzino. A Falconar si sono inventati questo Astraday, quindi hanno detto vediamo se c'è qualcuno che lo vuole fare senza che andiamo a cercarli noi che poi magari vengono qui e rinunciano quando sanno che devono fare l'AstraZeneca vediamo chi lo vuole fare spontaneamente e così si sono inventati l'Astra Day. La stessa cosa vorrebbero fare a Pesaro in un unico hub quindi probabilmente quello del Rossini del centro commerciale. Però ancora se ne sta discutendo insomma tutti i particolari in questo articolo di Letizia Francesconi le dosi sono disponibili quindi adesso è una buona idea però bisogna vedere dice Liverani direttore del Dipartimento di Igiene e Salute pubblica va detto che il siero AstraZeneca seppure in questo momento sia somministrato a determinate fasce d'età resta comunque un vaccino la cui somministrazione è autorizzata da EMA quindi l'Agenzia Europea dei Medicinali a partire dai 18 anni quindi è plausibile che tutti coloro anche di giovane età che non hanno che non hanno problemi di salute né remore potranno se lo vogliono aderire ad una giornata preferenziale di somministrazione AstraZeneca quindi uno sa che c'è quella e se vuole in questa giornata dedicata all'AstraZeneca può andarsi a vaccinare botte e vessazioni c'è la cronaca sulla pagina di Vallefoglia 14 del Corriere Adriatico di oggi botte e vessazioni l'incubo in famiglia marito denunciato dopo anni di sopruse arrestato dai carabinieri l'uomo in carcere dovrà rispondere di maltrattamenti e anche di lesioni due ordini di custodia cutelare un 53enne e un 38enne finiscono dunque in carcere a proloco alla guida una donna Olivia del Vedovo e la nuova presidente dell'associazione di Sant'Angelo in Lizzola da Urbino le guardie ecologiche senza soldi la regione paghi lo dice la legge il presidente Dini ha scritto ad Acquaroli sul nostro conto restano 100 euro ci dovete aiutare messa così con questa imposizione fa un po' passare la voglia ma comunque se poi lo dice la legge per carità è giusto ricordarlo ma l'erbavoglio non cresce più come si diceva allora vabbè questo è l'articolo in apertura sulla pagina di Urbino sotto invece flash mob della libertà con musicisti e attori manifestazione organizzata da Beatrice Borghi ridiamo spazio all'arte e poi dopo la strade c'è anche la palestra oggi ritorno sprint che bello rivedere i clienti un sospiro di sollievo per i gestori anche se la vera ripartenza ovviamente sarà settembre perché insomma fare palestra durante l'estate non è poi soprattutto il chiuso non è il massimo insomma quindi di solito si fanno queste attività fuori all'aperto ma comunque è già un segnale e oggi riaprono con una settimana di anticipo rispetto a quello che era stato ipotizzato il primo di giugno riaprono anche appunto le palestre andiamo a vedere l'altra pagina adesso invece andiamo sulla pagina di Pesaro del Corriere pagina 11 ricci e buoni Pesaro si è candidata all'Eurovision alla Vitri Frigo Arena all'annuncio del sindaco chi meglio di noi il fil rouge la favola dei Maneskin iniziò proprio nella città di Rossini tra l'altro non so se viene ricordato in questo articolo ma c'è adesso una polemica anzi sì una polemica diplomatica tra Francia e Italia la Francia che accusa l'Italia di aver sniffato cocain sul palco insomma quindi con questi cantanti ecco quindi vabbè questo per dirvi insomma che questa vittoria sta continuando a far discutere però ricci che non ci dorme la notte come al solito se la butta lì e chissà magari riusciamo anche ad avere l'Eurovision a Pesaro che comunque porta non solo così gente sperando che tutto sia torni tutto alla normalità che quindi il pubblico possa assistere a questo spettacolo quindi possa tornare qui gente e soprattutto che i riflettori su questo palcoscenico musicale si accendano sulla città della musica tra l'altro perché Pesaro è la città della musica insomma Baia il weekend agonistico chiude con il podio Domenico Passuello e Marta Bernardi vincono il Duatlon mentre Aguzzi e Carfagna al lavoro per creare la ZES che cos'è la ZES la ZES è la zona economica speciale per Marche e Abruzzo che darà supporto alle aree industriali Forza Italia in prima linea dice l'assessore mentre anche qui la cronaca dal Carlino picchiava e violentava la moglie era stato un 53enne folle di gelosia le controllava anche il serbatoio della benzina il contachilometri la denuncia dopo 20 anni mentre sulla pagina di Senigallia eccola qua ragazza in coma etilico e ai giardini posteggiatore abusivo invece denunciato un giovane ubriaco multato dai carabinieri vicino alla rotonda tre sorprese in giro con il coprifuoco è il racconto del fine settimana ovviamente è un racconto di Sabrina Marinelli che fa il punto di quest'ultimo weekend dove sono successe cose tra cui appunto una ragazza in coma etilico ai giardini sotto invece difende il meticcio quindi il cane azzannata dal pastore tedesco aggressione a Villa Torlonia la ferita è stata medicata con 16 punti di sutura lo sport con il Fano che resta solo resta solo la vittoria per non retrocedere sprecata la chance casalinga con Limolese tra imprecisione e anche un po' di sfortuna ora in Granata resteranno in Serie C solo andando a vincere in Emilia l'impresa è però possibile il verdetto rimane in billico e l'Anna può legittimamente ambire ad un colpaccio allo stadio Galli ora la rassegna è finita noi ci salutiamo qui come sempre prima di salutarci vi dico anche quelli che sono gli appuntamenti del giorno più importante sulla nostra televisione allora il nostro palinsesto alle 16 abbiamo una diretta con il Papa Papa Francesco che incontra i Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana in occasione dell'apertura della 74esima Assemblea Generale alle 18 il Santo Rosario da Myanmar e alle 21 dopo il telegiornale Occhio alla Notizia primo cittadino l'ospite di Simona Zonghetti è Antonio Sebastianelli che è il sindaco di Terre Roveresche quindi tutti coloro che ci seguono e sono tantissimi da Terre Roveresche possono questa sera fare domande richieste al sindaco Sebastianelli e quindi strappargli magari qualche promessa pubblica a livello televisivo ovviamente grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera grazie a tutti